Misurare le radiazioni da bomba atomica con una bottiglia. Quella che vedete si chiama bottiglia Gilardoni e serve per misurare la presenza di radiazioni ionizzanti non visibili ad occhio nudo nell'aria. La bottiglia dopo l'incidente di Chernobyl veniva tenuto da alcuni in casa per il timore di subire l'effetto delle radiazioni se presenti. Ma come funzionava questo particolare strumento? Se presenti i raggi X e gamma della bomba atomica penetravano nella bottiglia ovviamente ionizzando l'aria all'interno e questo significava in parole molto semplici che l'aria dentro la bottiglia era resa conduttiva e il sistema in queste condizioni tendeva a scaricare l'elettrometro. Visivamente questo significa far richiudere le lamine di alluminio. L'intensità delle radiazioni poi si ricavava misurando il tempo di caduta di queste lamine che fanno parte dell'elettrometro. Visto quante cose imparate a seguire Ingegneria Italia e Gilardoni?